Sono state segnalate in procura le attiviste di Non Una Di Meno che venerdì sera hanno sfilato in corteo nel centro di Padova esponendo la gigantografia in carta pesta dei genitali femminili chiamata la Sacra Vulva. La Digos ha segnalato alla procura la manifestazione per offesa del sentimento religioso e ora le partecipanti potrebbero rischiare una denuncia. Durante il corteo, indetto contro gli attacchi al diritto di autodeterminazione femminile, le attiviste di Non Una Di Meno hanno recitato la preghiera alla vulva contro il patriarcato a favore della legge 194 per l'aborto, le attiviste hanno percorso il listone lanciando la partecipazione alla manifestazione nazionale di Ancona il prossimo 6 maggio a sostegno dell'aborto libero e sicuro. Dopo la segnalazione in procura, i collettivi di Non Una Di Meno di tutta Italia attraverso i social hanno manifestato solidarietà alle attiviste padovane che rischiano la denuncia.